Ciao! Oggi vi mostrerò tre modi per non sprecare l'acqua. Uno! Dovete lavare le verdure? Ecco un sistema per non sprecare l'acqua. Fate andare l'acqua e lasciate sotto una pentola. Avrete l'acqua a disposizione per innaffiare le piante. Due! Quando ci insaponiamo le mani, l'acqua teniamola chiusa. Questa vasca contiene dell'acqua piovana che noi utilizziamo per innaffiare le piante. Ciao!